Materiali spesso carenti, il caro bollette legato all'energia, preventivi da rivedere magari fino all'ultimo minuto, tempi di consegna che si dilatano. Il 2022 si è aperto con non poche difficoltà da affrontare anche per le imprese artigiane, criticità vecchie e nuove, in un contesto ancora dominato dalla pandemia da Covid-19. Appia CNA Belluno non nasconde i propri timori per una ripresa che è dunque inevitabilmente rallentata. Preoccupati perché abbiamo chiuso un anno complicato e difficile per quanto riguarda l'approvvigionamento dei materiali per la costruzione e non solo. In più c'è stato un incremento dei costi sia dei materiali sia dell'energia che in questo momento stanno ancora incrementandosi e questo ci preoccupa non poco, proprio perché abbiamo chiuso un anno interessante dal punto di vista del lavoro perché si è sviluppato parecchio volume di fatturato anche sul settore delle costruzioni, non solo. Però le previsioni sono quelle dell'anno scorso perché la difficoltà di trovare le materie prime c'è ancora quest'anno. Criticità generalizzate che stanno creando inoltre problemi di liquidità a molte realtà. Tutti i settori in questo momento stanno soffrendo, addirittura alcune aziende hanno interrotto gli ordini dei materiali e hanno anche interrotto la produzione proprio perché non riescono poi a far fronte ai costi prefissati visto gli incrementi che ci sono. Gli ordinativi ci sarebbero, fanno sapere dall'appia, ma ad essere carenti sono i magazzini. La domanda è in crescendo, anzi si prospetta un anno ancora più importante rispetto all'anno scorso, però poi fa fatica a trovare i materiali, proprio perché non c'è sul mercato la materia prima. Una situazione allarmante, quella legata ai costi di produzione, che si sta ripercuotendo in maniera grave sul manifatturiero e sulle piccole e medie imprese del Veneto. La richiesta dei nostri associati è quella di far presente a livello nazionale la necessità di intervenire in maniera sostanziale sull'argomento. Anche a livello regionale ci sono stati degli incontri con la regione proprio per trovare delle soluzioni. Noi siamo sempre in prima linea e cerchiamo di dare un contributo per trovare la giusta via per poter risolvere la questione.